buongiorno benvenuti a questa rasseglia stampa di oggi 12 agosto allora vi dico la verità che la questione fondamentale resta essere questa vicenda del bonus dei 600 euro che avrebbero preso tre parlamentari e non più 5 io la trovo una minchiata di proporzioni gigantesche la trovo una minchiata di proporzioni gigantesche perché in realtà io non ci vedo uno scandalo incredibile ma soprattutto oltre a non vederci uno scandalo incredibile certo uno che prende 12 mila euro non si riesce a capire perché debba prendere un bonus da 600 euro ma non è questo il punto il punto oggi secondo me lo tira fuori meglio di tutti gli altri buongiorno a don e gilio e a tiziano e a iolanda che vedo che sono subite collegate la la questione amici miei che so che siete tutti là che volete prenderla con il grillino con il leghista con il forse italiota che preso questi soldi ma il punto fondamentale oggi lo coglie nei sei sette punti ma era lucidissima daniele capezzone vi consiglio la lettura del pezzo sulla verità ci sono troppe cose che non tornano uno intanto questa idea che ci fossero dei politici che avevano preso i 602 euro e usciva anche a maggio perché proprio oggi beh qualcuno il non detto lo dice sallusti lo dicono altri giornali che le hanno fatti uscire oggi perché devono dare una svolta rispetto al casino dei come si chiama dei verbali del comitato tecnico scientifico secretati e quelle bugie che aveva detto conte e ovviamente a tutti i pasticci del governo poi chi ha dato una mano a rintracciare questi nomi perché è evidente che su milioni di persone ci ha detto tridico milioni di persone che hanno preso il bonus la cassa integrazione eccetera su tutte queste milioni di persone che hanno cercato di aiuta essere aiutate dall'ips perché sono usciti questi tre nomi che peraltro non sono ancora stati resi pubblici proprio tre nomi qualcuno li deve aver cercati questi aghi nel pagliaio beh insomma dice capezzoni e allora c'è qualcosa che non funziona sembra proprio a cercare lago nel pagliaio perché evidentemente la cosa è fatta non è che ops sono arrivati tre parlamentari tre i grillini sostiene capezzoni lo sapevano sin da subito questa cosa perché sono partiti a dire subito e che c'erano che c'era questo scandalo in più dice capezzoni una cosa che mi era sfuggita ettore rosato del pd ha detto ha parlato con tridico e mi ha detto che non c'è nessuno del nostro partito è ma come funziona perché tridico sa che non c'è nessuno del partito democratico e insomma e poi ci sarebbe anche la ventilata idea di un conduttore televisivo che avrebbe preso 600 euro giuro che non sono io io non ho preso 600 euro ma il punto non è questo il punto è che questo strumento può essere utilizzato e dice giustamente capezzone come le cartelle sanitarie come la cassa integrazione come la disoccupazione come la richiesta della colf come il nome cognome che si può dare per un figlio non lo so tutto è in mano a questo grandi enti statali e beh insomma se vengono utilizzate in maniera anche perché come scrive bene oggi nordio i furbetti dei parlamentari che si prendono questi soldi non hanno fatto nulla di illegale dal punto di vista penale cioè non c'è nessuna il nulla nulla di sbagliato dal punto di vista penale certo l'opportunità c'è ma non è nulla di illegale tant'è che oggi libero fa un altro pezzo secondo me verità un altro pezzo sacrosanto dice ma scusatemi toc toc toninelli che si che si compra un suv e che è incentivato da una legge che lui stesso fa e forse un furbaccio un furbacchione o il ministro dei trasporti attuali se si compra un monopattino oppure se usa l'incentivo del 110 per cento cioè ragazzi scusateci adesso il problema fondamentale è che questa legge è una legge che era stata fatta in maniera assurda perché prevedeva i 600 euro per tutti quello che travaglio definirebbe l'helicopter money senza la h zaia decide in veneto di non candidare i tre consiglieri regionali che avevano preso 600 euro e dal suo punto di vista politico fa bene ma una cosa è la vicenda politica l'altra cosa è la vicenda del diciamo della trattativa giornalistica mediatica ricattatoria che stiamo vedendo in questi giorni quindi pezzo numero uno di oggi assolutamente da vedere da guardare con attenzione perché mette in fila tutte le cose che non tornano meglio di tutti gli altri è capezzone secondo tema di giornata come sempre è la questione dei contagi vi segnalo che ieri i morti purtroppo per il covid che sono morti che derivano da mesi fa e sono persone di una certa età sono inferiori ai morti di questa mattina in un solo colpo di un'auto che è finita sotto sotto è finita fuori di strada che ha ucciso purtroppo più persone di quante ne abbia uccise il covid nella giornata di ieri siamo contenti dell'uno dell'altro no non siamo contenti ma cerchiamo di dare come posso dirvi il giusto senso a quello che avviene nel mondo perché se no oggi facciamo e godiamo dell'idea che le regioni campania puglia che altro c'è fanno il blocco della quarantena 15 giorni se va in grecia in croazia in spazia o a malta vedete anche su questo bisogna stare un pochino attenti perché si inizia così no si inizia così lo scandalo i politici che prendono i 600 euro lo scandalo i giovani che vanno a malta e poi dopo si finisce che noi ci dicono dove possiamo andare come possiamo andare possiamo forse andare in africa perché possiamo prenderci una brutta malattia quando ci sono delle malattie che non sono ancora possiamo andare nelle regioni dell'ebola possiamo andare a fare il paragadutismo possiamo andare a fare lo sci alpinismo cioè attenzione perché la dittatura sanitaria è soltanto il primo passo verso il controllo da parte dello stato del nostro però io capisco che questa è una sensibilità che il 90 per cento che non che mi ascoltano questa roba non gliene fotto assolutamente nulla perché quando abbiamo creato un tale diciamo emergenza nazionale per il covid per il quale e i miei molti dei miei ascoltatori di come che sei scemo se uno va a malta è giusto che torni in italia faccia il tampone magari sono gli stessi che però invece quando noi denunciavamo il fatto che molte malattie arrivavano dall'estero normalmente attraverso i barconi per diciamo ma che fai il razzista se provi a fare i tamponi e le analisi a coloro che tornano e vengono dai paesi diciamo che hanno altre malattie io vi ricordo una dottoressa quarta repubblica che ci confessò che lei non poteva e non era obbligata non poteva e non obbligare nessuno dei suoi a sottoporsi al test dell'AIDS nonostante lei avesse visto nei suoi campioni che il 10 per cento di coloro che arrivavano l'AIDS ce l'avevano certo perché l'AIDS non è più una malattia diciamo grave ecco diciamo mentre invece il covid che prende trentenni senza sintomi in questi momenti è la prima pagina dei giornali e viene considerata fondamentale e poi c'è l'altra grande notizia brava Rita all'inferno si scende a piccoli passi buongiorno Maria Giovanna buongiorno Letizia l'altra cosa fondamentale che mi fa impazzire è l'organizzazione mondiale della sanità cioè l'organizzazione più pippa quella che ha fatto più errori fino ad oggi chi decide di mettere come presidente di una fantomatica commissione per la pane europea per le manovre sanitarie e per lo sviluppo sostenibile non so che cazzo c'entra cioè mettiamoci pure dentro non so i buoni propositi no per le com'è che si chiama per la salute e lo sviluppo sostenibile per fortuna che ce l'ha messa che fa ste minchiate probabilmente Trump dovrà contribuire a questa minchiata essendo il primo contributore di questa inutile organizzazione mondiale chi hanno messo presidente Mario Monti l'uomo che qualcuno oggi maliziosamente dice con le sue politiche di rigore aveva contribuito a fare i tagli alla sanità magari necessari ma per rispettare invece quella che era il suo mantra precedente cioè il fatto che avesse ragione la banca centrale scusatemi la commissione europea la germania dell'austerity e quindi si dovesse si dovesse trattare beh poi c'è il vaccino di Trump oggi il quotidiano nazionale il più duro e il più sfottoso questo vaccino che anche loro l'hanno chiamato sputnik come se ci fosse una gara con l'america per chi arriva prima sulla luna in realtà il vaccino viene testato dalla figlia di Putin che il giornale nazionale titola come cavia segnala a tutti gli amici del quotidiano nazionale che ci sono un sacco di cavie che stanno cercando lo spallanzani stanno cercando negli ospedali importanti italiani proprio per provare i vaccini che noi in Italia stiamo sperimentando quindi un po in tutto il mondo ci sono le cavie non soltanto in Russia poi detto questo il fatto che questi abbiano trovato il vaccino e lo caviano e lo trovino e lo provino sulla figlia di Putin è singolare però insomma mi sembra che ci sia un sovrappiù di pregiudizio nei confronti di tutto quello che arriva da quella parte del mondo detto questo io mi fido forse di più dei centri di ricerca americani che di quelli sovietici ex sovietici o cinesi detto questo sul sull'immigrazione e sul covid c'è un'altra storia straordinaria segnatevela perché oggi la leggo soltanto sul sole 24 ore taglio basso un buongiorno da Islanda Giorgio addirittura fantastico allora qual è questo non detto straordinario e sapete qual è? è una storia del tribunale di Napoli al tribunale di Napoli c'è un pakistano che ha un processo per essere espulso va bene? per essere espulso i giudici decidono al tribunale di Napoli che non possono espellere il pakistano e sapete perché non possono espellere il pakistano? perché dicono la nazione da cui proviene cioè il pakistan è in piena pandemia covid e in più hanno privatizzato la sanità e quindi lui rischia la vita nel tornare in pakistan e ci otteniamo noi beh io la trovo straordinaria cioè prima erano le guerre poi era vi ricorderete il cambiamento climatico adesso c'è un magistrato in Italia un giudice a Napoli che decide che il capistano il pakistano clandestino può rimanere di noi perché se rispedito in pakistan ma quando mai nel senso che quando mai riusciamo a rispedirlo in pakistan ma sulla carta anche rispedirlo in pakistan sarebbe stato pericoloso per la sua salute perché lì c'è il covid è una cosa pazzesca pazzesca vice di biden è stata individuata kamala harris e la prima senatrice californiana e scusatemi la prima donna nera e la prima di origine asiatica così dice il wall street journal e molti giornali italiani ad avere la possibilità di diventare vice presidente degli stati uniti ex concorrente di biden nelle primarie senatrice californiana biden dice il sole 24 ore anzi no scusatemi il wall street giorno dice tutto contento perché ha lavorato con il figlio come avvocato per i diritti civili ragazzi l'altra sicura candidata è la raggi e abbiamo sia la vice di biden la carama la kamala harris e sia la kamala raggi che sarà candidata a roma e anche qui è fantastico perché i grillini sono straordinari ci hanno detto che non facevano il terzo mandato ma se ne fottono altamente visti grandi e splendidi risultati ottenuti dalla raggi come dice bene belpietro oggi in un fondo sulla verità in realtà qua si tratta della siccome la griglia non ha alcuna chance di essere eletta sostiene belpietro la raggi è la pripista la casta vera e propria che si stanno facendo che si stanno facendo i grillini storace dice che qua il pallino ce l'ha in mano la meloni perché la meloni è quella che sta crescendo di più nel centrodestra e soprattutto qui aggiungo io cavolo se il centrodestra riesce a perdere questa opportunità a roma col gran casino che fecero l'ultima volta non candidando bertolaso con quello che si mise di traverso quelle piccole antipatie locali ci terremo la meloni ci terremo non la meloni ci terremo la raggi per i prossimi secoli ma siccome il centrodestra dimostra straordinariamente di essere diviso e cazzone quando deve fare una scelta unitaria io mi auguro che a roma riesca a fare una scelta di livello e non e non assurda come spesso avviene con il centrodestra brillano le borse ma i giornali italiani non lo dicono uno dei motivi per i quali brillano lo spiega l'mf nel catinaccio oggi di prima pagina e perché quel pazzo scocciato di trump con cui se la prende ancora oggi ferrara perché qualche giornale comico e ironico americano qualche televisione americana lo considera vicino al cav e quindi allora ferrara ritorna il cav il ferrara di un tempo lo spirito guerriere che entro gli rugge esce a ferrara però insomma ritornando alla questione di trump ha deciso di ridurre il capital gain sulle i guadagni di borse quindi la borsa americana ieri è schizzata sono schizzati prima gli high tech poi sono un po diminuiti ma comunque l'idea che voglia aiutare il mercato finanziario ha reso comprensibilmente contenti quelle delle borse a proposito delle minchiate che fa trump io pensavo che questa di tik tok cioè l'idea che questa società controllata da una holding cinese non dovesse continuare a lavorare in america la considerava una follia contro il diritto e tutti i diritti americani anche diciamo il primo emendamento però insomma poi mi sono accorto oggi c'è su wall street journal questa cosa incredibile e cioè che in realtà tik tok quando tu la utilizzi dentro il tuo telefonino ti traccia con dei protocolli che invece google non accetta ve la faccio breve sostanzialmente sa più cose di quello che dovrebbe sapere secondo una specie di regola democratica che si è data android certo android è una società privata google guarda caso una società americana e i loro i dati li utilizzano come gli pare e il fatto che un cinese possa violare questo accordone globale li fa arrabbiare però insomma l'idea che i dati vengano utilizzati quando io vado su tik tok con il mio telefonino in maniera diversa rispetto allo standard internazionale certo qualche piccolo timore me lo dà sul fatto che questi probabilmente se ne fottono altamente di tutte le regole mondiali nel rispetto delle privacy detto questo staremo a vedere questi poveracci di tre parlamentari che verranno incendiati sull'altare dei 600 euro nel senso che non lo sono hanno commesso una cagata insomma mi sembra che questo grande scandalo oggi sia niente niente rispetto allo scandalo di essere ancora governati da questi cialtroni ciao ciao